Sensibile calo dei contagi in molti comuni dei Nebrodi rispetto al picco di casi delle scorse settimane. Dal report di questa mattina nel comune di Mistretta si registrano 146 casi positivi. Nel comune di Tusa sono 19 guariti, complessivamente i contagi nel piccolo centro sono 84, ma si registrano anche 8 nuovi casi positivi al covid. Dati in calo anche per Santo Stefano di Camastra, in attesa di un dato più preciso, molti dei cittadini sono guariti e negativi al tampone. Stessa storia per il comune di Reitano, 6 cittadini guariti e il numero dei contagi passa da 20 a 13. In aumento invece i casi nel comune di Pettineo. Dal report di ieri sera i positivi sono 39, tutti con lievi sintomi. A comunicarlo è lo stesso sindaco di Pettineo. Ruffino ha anche sottolineato che qualora i cittadini dovessero risultare positivi di comunicarlo tempestivamente all'amministrazione, in modo tale da poter organizzare la macchina comunale dati in ritardi da parte dell'ASP. Tra i comuni della provincia di Messina, Capizzi registra 37 casi, tra nuovi positivi e guariti, mentre sono due i cittadini in isolamento domiciliare. Il sindaco Leonardo Principato Trosso denuncia ancora una volta l'assenza dell'usca di Nicosia, anche nell'assistenza domiciliare alla cittadinanza. Ricevo numerose chiamate da parte dei cittadini, scrive il sindaco, ma non riesco a interloquire con nessuno dei responsabili dell'usca di Nicosia. Pertanto i cittadini positivi non sono nelle condizioni di richiesta di assistenza, così come previsto dalla norma. Invierò formale nota di protesta all'ASP di Enna per cercare di risolvere i problemi. Nell'assenza delle istituzioni sanitarie invito i cittadini, qualora necessario, a rivolgersi a 118, unica struttura sanitaria funzionante a Capizzi per quanto riguarda l'assistenza ai positivi covid, conclude. Dal bollettino di ieri invece nel comune di Caronia risultano 35 casi positivi, con 8 guariti e 4 casi in più rispetto all'ultimo report.